Jack? Ciao Pillo, mai visto? Parlando di questa Emma di Amici come se fosse una grande artista, ma come andremo a finire? Sto pappagone qua, ce la lasciamo perdere va, ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi? Ma di cosa stiamo parlando? Ma parliamo di cose serie, di cosa parliamo? Di Gemma, di il grande fratello, Xfactor, amici, ragazzi questi sono tutti i pacchetti confezionati per potervi il cervello.